Era circa l'una di notte quando una coppia di turisti francesi stava percorrendo in bicicletta via Piave nel centro di Forte dei Marmi, quando i coniugi sono stati affiancati da due uomini in moto che li hanno ordinato di consegnare quanto avessero con loro. Per intimare la coppia uno dei malviventi ha esploso tre colpi di pistola, la polizia presume a salve in aria. L'uomo ha inizialmente opposto resistenza al punto che i rapinatori lo hanno colpito al volto con il calcio dell'arma per poi sfilargli l'orologio dal polso, un prezioso patefilipe del valore di circa 80 mila euro e poi di leguarsi a bordo della moto. Sull'episodio stanno indagando gli agenti del commissariato di Forte dei Marmi che stanno passando al setaccio le immagini dell'impianto di videosorveglianza della zona per cercare di rintracciare i due malviventi. Appena sabato scorso una turista di Firenze aveva denunciato ai carabinieri che a Marina di Pietrasanta intorno alle 20 le era stato portato via un orologio Rolex dal polso. In questo caso avrebbe agito un solo uomo che è fuggito a piedi. Da capire se questo episodio possa avere un possibile collegamento con quello della notte scorsa. Inoltre il 25 luglio scorso la polizia aveva arrestato in flagranza di reato un quarantenne napoletano figlio di un defunto boss di Camorra che di fronte al pontire di Forte dei Marmi aveva strappato un orologio Rolex da 50 mila euro a uno turista di Verona ma fu bloccato da agenti in abiti civili.